Tutto pronto per l'avvio della quarta edizione del Festival Combinazioni 2018, l'affitta rassegna culturale organizzata dall'Associazione Levi Alumni. L'apertura del Festival è affidata venerdì 14 settembre a Ishafa Mazzi, ensemble multietnico composto da quattro musicisti di tre nozionalità diverse. Seguirà il giorno seguente il Rockwiem Mozart in chiave rock dell'orchestra giovanile La Région Sans. Il percorso di appuntamenti proposti dall'Associazione ha come denominazione comune la Cultura della Pace, in cui si parlerà tramite spettacoli, musica, mostre, workshop e laboratori di educazione, diritti umani, partecipazione, tolleranza e libertà di informazione.